Buona notizia, speriamo che il bambino supererà la situazione, è un grande disastro, tutta la famiglia è comparsa. Adesso dobbiamo organizzare i funerali e altre situazioni non buone. Abbiamo un bambino qui, tutti noi preghiamo per la loro sanità e salute. Chiedete anche che sia fatta chiarezza? Adesso non sappiamo cosa è successo esattamente e ho capito dal Presidente che c'è un'investigazione, analisi. Siamo sicuri che il Presidente e la regione faranno più migliore che ci saranno. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.